Dopo la decisione della regione siciliana di bocciare il disegno di legge di proroga delle gestioni commissariali delle province, la CIS lancia l'allarme non solo per il futuro dei dipendenti ma anche per i servizi erogati dall'ente. Il sindacato infatti non ritiene che i prossimi 45 giorni per approvare la riforma siano sufficienti per risolvere il problema e si chiede come le province riusciranno ad andare avanti in questo lasso di tempo. È stata bocciata all'Ars la proroga per i commissari, in atto c'è una proroga di fatto soltanto per l'ordinaria amministrazione e questo genera incertezze in tutti. Per quanto mi riguarda quindi dal punto di vista sindacale andando per i dipendenti che vivono questo dramma ma anche la città seppure quello che è l'aspetto relativo all'università era già stata una cosa annunciata. Devo dire che anche io nella qualità avevo chiesto di interrompere tutti i finanziamenti in quanto agli enti nella considerazione che questo se non fosse stato così il taglio nei confronti del personale sarebbe stato ancora più pesante ma solo agli enti non ai servizi essenziali. Ho letto in questi giorni che si chiede alla provincia di riparare le strade. Questa è un'altra conseguenza negativa in questo momento di assoluta incertezza. Il commissario è stato bocciato come proroga ma di fatto continua la sua attività non ha risorse, già non ce le ha, ripeto, per pagare probabilmente gli stipendi e per assicurare i servizi essenziali quindi è difficile la condizione ma sinceramente devo dire che io sono estremamente preoccupato perché l'Arse aveva un anno di tempo per fare una proroga sulle province e non l'ha fatta. Adesso ritiene di poterla fare probabilmente in 45 giorni. Sono spaventato da quello che può succedere perché significa che non c'è programmazione, non c'è un progetto. Eppure la CIS l'aveva presentato un progetto. Noi siamo perché si abbia il coraggio di uscire da questa incoerenza, da questa ambiguità. O si levano totalmente le province e i dipendenti passano con lo stesso stipendio alle regioni così come le competenze e il patrimonio. Oppure assolutamente si mandengono le province con i territori e si danno alle province tutte le competenze che sono di altri enti istituiti dopo che si sono dimostrati di essere dei carrozzoni e degli sprechi. Così si può uscire dalla crisi. Usciamo da questa ambiguità, da questa incoerenza, da questa incertezza e cerchiamo di dare con il 2014 serenità alle persone, non solo ai dipendenti, rimanga i cittadini di questa città.